Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Qualche settimana fa abbiamo iniziato a raccontare la storia del trucco e della moda attraverso i secoli. Un viaggio che a prima vista può sembrare, come dire, di nicchia, ma anche in realtà io per primo ho scoperto essere molto interessante perché ci racconta molto di come i nostri antenati vivessero, di quale fosse il loro concetto di igiene, di perché utilizzassero certi vestiti, certi trucchi, ma ci racconta anche di come per apparire belli molto spesso i nostri antenati usassero delle sostanze tossiche che avevano degli effetti tutt'altro che piacevoli. Bene, oggi, grazie ad Antonella Romano che sta curando tutta questa serie, facciamo un passo avanti. Ripartiamo dal 1700 dove c'eravamo fermati nell'ultima puntata, peraltro le trovate in descrizione nella playlist, e raccontiamo proprio la fine di quel secolo, i cambiamenti che avvennero con la fine dell'Anziano Regime, e poi il 1800, un secolo che normalmente viene ricordato per la sua austerità, per il suo essere puritano, per i suoi vestiti chiusi, scuri, che però, come tanti altri periodi della storia, ha tanto da raccontarci, anche sotto questo aspetto. Parleremo di moda, parleremo di trucco, parleremo di capelli, e parleremo anche di igiene, e anzi partiremo proprio da lì, iniziando col parlare di uno di quegli oggetti che sono di uso comune, quotidiano, almeno da noi in Italia, non è così in tutti gli Stati, e che vengono introdotti per la prima volta proprio in quel periodo, cioè i bidet. E la cosa curiosa, ripeto, partiremo proprio parlando di questo, è che i bidet non furono introdotti in Italia, dove oggi sono ampiamente usati, ma furono introdotti in Francia, dove invece praticamente oggi non esistono più. Quindi, come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a raccontare. C'eravamo fermati nell'ultima puntata, in un mondo, quello di inizio, metà 1700, che dell'igiene sembrava non sapere assolutamente cosa farsene. Abbiamo raccontato come quell'igiene, che normalmente non associamo al Medioevo, invece, nel Medioevo, era decisamente più seguita rispetto ai secoli successivi, e come invece, a partire dal 1500, questa situazione fosse andata peggiorando. Uno dei simboli classici di questa igiene molto, molto precaria può essere considerata la reggia di Versailles, che all'inizio del 1700 era probabilmente il gioiello di tutta l'Europa. Come sappiamo, Luigi XIV, il re sole, che quella reggia la fece costruire, non aveva grosso interesse per l'igiene di chi in quella reggia ci sarebbe dovuto vivere, a cominciare da lui stesso. Tanto che, come abbiamo raccontato, in quel periodo andava di moda portare gli stessi vestiti per molto tempo, coprire l'odore, dato che non ci si lavava, utilizzando semplicemente dei profumi, e l'arte profumiera in questo periodo letteralmente esplose, proprio per coprire l'odore che emanavano i nobili, e creare acconciature sempre più particolari, che però prevedevano che i capelli magari non venissero lavati per tanto tempo. Anche in questo caso potete immaginare l'odore e la sporcizia. Incredibilmente, una delle persone che per prima iniziarono a far notare quanto la reggia di Versailles fosse tutt'altro che pulita, fu la regina Maria Antonietta, la sposa di Luigi XVI, la quale veniva dalla corte austriaca, che anche se ovviamente non ai livelli del XX secolo, era comunque una corte decisamente più pulita rispetto a quella di Versailles. La regina Maria Antonietta, nelle sue lettere, fa presente che a Versailles gli odori sono terribili, erano terribili, innanzitutto al mattino, dove non si può passare attraverso i corridoi senza sentire odori di feci. Questo perché, durante la notte, tutti coloro che abitavano all'interno di Versailles si liberavano all'interno di pitali, quindi i classici contenitori in cui fare le proprie deiezioni, che venivano poi lasciati fuori dalla porta. Quindi immaginate, con tutte le porte e le varie stanze, quanto potesse essere l'odore, fino a quando qualcuno non li prendeva e li andava poi a gettare. Inoltre, come dicevamo, i nobili tendevano a non lavarsi, le parrucche tendevano a diventare sempre più sporche, e questo non faceva che aumentare sempre di più l'odore. In realtà, però, a Versailles, tra Luigi XIV e Luigi XVI, le cose erano già iniziate a migliorare, quindi potete immaginare come fosse quasi un secolo prima, perché, dopo che Luigi XIV aveva lasciato il palazzo, come vi ho raccontato, Luigi XV aveva iniziato a introdurre delle migliorie, da questo punto di vista. Aveva iniziato a far costruire dei bagni, non tantissimi, uno normalmente per ogni appartamento, gli appartamenti erano divisi tra più nobili che abitavano, però, insomma, meglio di niente. Questo aveva in qualche modo migliorato un po' le condizioni igieniche. C'era poi un certo, come dire, risciacquo dell'acqua, perché molto spesso in questi bagni c'erano delle vasche che permettevano ai nobili di fare il bagno. Quest'acqua veniva poi riutilizzata più volte, perché capitava che il nobile facesse il bagno e poi il servo utilizzasse quell'acqua a sua volta per lavarsi, acqua che ovviamente era stata scaldata per poterlo fare, e molte volte poi quell'acqua sporca insieme a quella dei vestiti veniva poi riutilizzata o per bagnare i giganteschi giardini di Versailles o per i giochi d'acqua delle fontane. Insomma, una scelta green, diremmo oggi, che però all'epoca serviva semplicemente per la necessità di utilizzare al meglio tutta l'acqua disponibile. Il marito di Maria Antonietta C. Luigi XVI era un po' meno preso da questo sacro furore dell'igiene e aveva in effetti anche lui fatto aprire qualche bagno, ma un numero limitato. La regina invece era decisamente più interessata all'igiene e nel palazzo in cui abitava, dopo essersi separato dalla corte principale, cioè le Petitrianon, aveva fatto costruire una grossissima vasca da bagno, una grossa sala da bagno all'interno del quale c'era una vasca, ma all'interno del quale c'era anche un letto, perché all'epoca c'era l'idea che lavarsi, ma questo abbiamo già raccontato nella scorsa puntata, viene dal Medioevo, lavarsi soprattutto nell'acqua calda fosse un'attività molto stancante e che per questo fosse necessario poi riposarsi, cosa che in effetti la regina faceva, approfittandone per riposarsi e poi truccarsi e così via. Ora, proprio in quel periodo, nel corso del 1700, ad opera di un ingegnere chiamato Roisier, iniziò ad essere introdotto a Versailles un nuovo oggetto, cioè proprio il bidet. È una cosa che spesso ci si dimentica, ma il bidet, come fa capire il nome, deriva proprio dalla Francia. Bidet è un nome per indicare i poni, dato che quando lo si utilizza, lo si poteva fare proprio come se si stesse cavalcando un piccolo poni. Bene, questi bidet, bisogna dire, che in Francia non ebbero un grossissimo successo fin dall'inizio. I nobili li utilizzarono inizialmente, copiandoli ovviamente da quelli presenti a Versailles, ma ben presto caddero in disuso, un po' perché erano considerati poco igienici, perché in mancanza di acqua corrente l'acqua tendeva a stagnare, quindi insomma la cosa era mal considerata, un po' perché l'unico luogo dove invece si diffusero molto fu nei bordelli, nelle case d'appuntamento, e quindi ad un certo punto i bidet iniziarono ad essere associati alla prostituzione, e questo diede il colpo di grazia e li fece sparire completamente. A sparire poi completamente, a intervenire per farli sparire completamente, poi ci pensò nel corso del Novecento l'edilizia, l'edilizia popolare, che dovendo recuperare ogni minimo spazio, soprattutto nelle città, per poter fare delle case il più possibile confortevoli, nei bagni facevano sparire questo oggetto di poco utilizzo per risparmiare proprio dello spazio. Come arrivò questo bidet in Italia? In questo momento sto parlando principalmente della Francia, tra poco vi spiegherò anche perché. Ma come arrivò questo bidet in Italia? Beh, arrivò grazie alla regina di Napoli, che lo importò a Napoli, se ne innamorò, una parola grossa, ma insomma ne capì l'utilità, lo portò a Napoli e da qui lo fece diffondere per tutta Italia. Anche se bisogna dire che comunque anche in Italia, se nelle case dei più ricchi, dei nobili, si diffuse già alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, nelle case della gente comune, e soprattutto quella che viveva fuori dalle città, arriverà poi solo nel corso della seconda metà del Novecento, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ancora 40-50 anni fa, soprattutto nelle case di campagna, molto spesso il bagno, inteso come il WC, era in realtà una latrina all'esterno, dove ovviamente, in mancanza di acqua corrente, non ci poteva essere un bidet. e quindi la pulizia era decisamente meno, meno precisa. Teniamo conto che fino a questo momento abbiamo parlato di igiene, soprattutto nelle case dei più ricchi, perché nelle case dei più poveri, ovviamente in mancanza di acqua corrente, la cosa era molto più difficile, e variava molto a seconda delle zone. Nelle città, tendenzialmente, si era più sporchi, per la difficoltà di avere accesso dell'acqua corrente, in campagna le cose potevano essere diverse, grazie alla presenza di fiumi di stagni, in cui si poteva fare il bagno, e questo permetteva di avere un'igiene migliore. Gli ultimi anni del regno di Maria Antonietta, furono anni di cambiamenti anche dal punto di vista della moda, e adesso capite perché rimaniamo in Francia, perché in effetti, essendo la Francia e l'Inghilterra i due paesi più importanti dal punto di vista europeo, per tutta la fine del Settecento e l'Ottocento, la moda sarà imposta proprio da questi due paesi, che la esporteranno letteralmente poi in tutta Europa. Bene, già alla fine del Settecento le cose in effetti iniziavano a cambiare, perché la regina Maria Antonietta iniziava lei stessa, poi copiata ovviamente dalle nobile donne e così via a cascata, a imporre uno stile meno elaborato, meno concessione alle parrucche, capelli leggermente più normali dimensionalmente, anche se poi per accorciare definitivamente i capelli bisognerà far finire l'anzien regime e iniziare poi il periodo repubblicano, ma soprattutto vestiti meno ampi rispetto a quelli utilizzati nel resto del Settecento, con delle gonne più strette e soprattutto dei bustini che stringevano meno la vita. Anzi, nel corso della prima parte dell'Ottocento i bustini spesso non verranno tanto utilizzati per schiacciare la vita, cosa che comunque continuavano a fare, e peraltro venivano utilizzati anche dagli uomini che nel corso del periodo repubblicano li utilizzavano per far risaltare meglio il corpo, quando non si poteva allenare, si cercava di fare, lo si faceva peraltro in tutti i modi, a volte aggiungendo anche delle specie di protesi, ovviamente non erano protesi, ma erano dei piccoli cuscini, ad esempio nelle natiche, per farle sembrare più ampie e più allenate. Ad ogni modo, questa situazione, come vi dicevo il bustino, in questo periodo iniziò a salire leggermente, iniziò ad essere utilizzato, un po' come succede oggi per i reggiseni, per far evidenziare maggiormente il seno e renderlo più prosperoso e più visibile. Un particolare, il seno, che proprio nella prima parte dell'Ottocento fino ai Settecento, inizio dell'Ottocento, iniziò a diventare molto importante per la moda femminile, che iniziò a farlo risaltare e a metterlo anche in mostra con delle scollature. Come vi dicevo però, il vero cambiamento epocale si ebbe dopo la fine del governo di Luigi XVI e Maria Antonietta, quando con la rivoluzione, l'arrivo della Repubblica, anche i vestiti cambiano. Cambiano sia nella moda maschile che soprattutto nella moda femminile, che inizia ad utilizzare dei vestiti più comodi, più leggeri, più facili da utilizzare e che spesso copia quella che era la moda proprio dei rivoluzionari, che teoricamente, provenendo dal popolo, poi non era esattamente così storicamente, ma almeno quello volevano far intendere, utilizzavano vestiti che normalmente erano usati proprio dai popolani, che ovviamente anche durante il periodo di Maria Antonietta non potevano usare i grossi e scomodi vestiti che invece erano in uso alla corte di Versailles. La cosa interessante è che questo periodo, che da Napoleone in poi inizia ad essere chiamato il periodo imperiale in Francia, mentre invece in Inghilterra veniva chiamato il periodo regency, cioè della reggenza, perché il sovrano Giorgio III era malato, aveva problemi psichiatrici e l'ultima fase del suo regno vedrà invece il figlio, il futuro Giorgio IV, governare al posto suo, appunto la reggenza. Bene, la cosa interessante è che questi due periodi, che andranno paralleli tra due grandi nemici, in realtà dal punto di vista della moda vedranno una concordanza, perché le donne e gli uomini, sia da una parte che dall'altra parte della manica, inizieranno a vestirsi in maniere, come dire, simili. Questo è molto interessante, perché ci mostra come la moda ormai stesse diventando internazionale, questo grazie a due fattori. Il primo, grazie alla capacità di diffondere informazioni. Anche la moda iniziano a comparire proprio all'inizio dell'Ottocento le prime riviste di moda destinate alle donne, e questo fa capire come stesse diventando un argomento molto importante. Il secondo è che alla fine del Settecento erano state introdotte le prime macchine per la filatura meccanica. Questo aveva fatto scendere il costo per la produzione di vestiti e aveva aumentato la possibilità per le varie classi sociali di procurarsi più vestiti. Ora, questo, come vi dicevo, aveva avuto vari effetti sulla moda. Innanzitutto, per le donne, i vestiti avevano raggiunto un livello di leggerezza che non raggiungeranno poi di nuovo fino al Novecento. Andavano di moda vestiti molto leggeri, lunghi, che in qualche modo facevano assomigliare alle donne, quasi a delle idee greche, che si portavano addosso senza tutta l'impalcatura utilizzata fino a quel momento per le gonne. Erano vestiti che si diffondevano grazie anche a dei veri e propri personaggi, tra cui, e anche qui vediamo i due stati, in Inghilterra, potremmo dire Lady Hamilton, che era famosa per essere anche l'amante di Nelson, nonostante fosse sposata, Hamilton era il nome del marito, mentre in Francia, potremmo dire, Giuseppina di Buarnier, la prima moglie di Napoleone, che divennero, come dire, delle influencer ante litteram, tutte copiavano loro. I capelli tendevano a essere più corti, il trucco era diventato molto molto più leggero, ma di questo ne parleremo, e in generale l'aspetto era, come dire, più sano e più normale, potremmo dire così. Ovviamente, soprattutto nei climi rigidi, utilizzare questi vestiti più leggeri poteva essere un problema, perché si rischiava di prendere freddo, e per questo, proprio in questo periodo, iniziano a comparire degli accessori, tra cui i guanti, che vengono portati sempre di più all'esterno, e che possono raggiungere il gomito, dei cappelli, che in realtà non erano dei veri e propri cappelli, ma erano più che altro delle specie di cuffiette, questa era la moda dell'epoca, per arrivare ai veri e propri cappelli, lo vedremo poi più avanti, nel corso dell'Ottocento, e iniziano a comparire invece dei grossi scialli, che venivano portati sulle spalle, proprio per mantenere il caldo. Su questo le due mode un po' differivano, perché se in Inghilterra si utilizzavano principalmente scialli, con dei disegni orientali, in Francia invece si utilizzavano delle specie di giacche, o meglio delle simili giacchette, che imitavano quelle utilizzate dagli uomini, pur in maniera diversa, e oggi li chiameremo a volte più coprispalle, coprispalle, forse che vere e proprie giacche, ma insomma anche in questo caso, iniziano ad essere introdotti questi vari accessori. L'ultimo accessoro che viene introdotto in questo periodo, è potremmo dire un antenato della borsetta, veniva chiamato reticella, perché spesso era proprio fatto da una rete, poteva essere portato appeso alla vita, o poteva essere portato direttamente alla spalla, ed era un modo per portare alcuni oggetti, anche perché questi vestiti non avevano tasche, e quindi se una donna voleva portare qualche oggetto, doveva farlo ovviamente in questo modo. Anche la moda maschile cambia in questo periodo, cambia in Francia, dove, come vi dicevo, si inizia a copiare lo stile dei rivoluzionari, i famosi sanculotti, e lo vediamo in quasi tutti i quadri dell'epoca, anche se in Francia a un certo punto andarono molto di moda le divise militari, perché la Francia, sostanzialmente, per tutto il periodo napoleonico, fu quasi costantemente in guerra. Molto interessante, invece, soprattutto poi per il proseguo nell'Ottocento, invece la moda che inizia a svilupparsi in Inghilterra, i cosiddetti dendi, che si vestivano in maniera molto elegante, con vestiti di taglio semplice, ma appunto eleganti, con magari dei particolari, come ad esempio dei bottoni d'oro, e voi direte, ma cosa c'è di rivoluzionario in questo? Beh, in realtà, è rivoluzionario, oggi ci sembra classico, ma per l'epoca era rivoluzionario, perché cambiava lo stile utilizzato fino a quel momento, fino a quel momento, nel Settecento, gli uomini si erano vestiti con vestiti molto più appariscenti, molto più colorati, portavano la parrucca, avevano pizzi, merletti, invece questo stile dendi, elegante, ma raffinato, ma semplice, era un cambiamento, e divenne proprio uno stile dell'epoca per i giovani. C'è la parrucca, l'abbiamo già nominata più volte, proprio alla fine del Settecento, la parrucca subisce un po' un colpo di grazia, lo subisce in Francia, per motivazioni politiche, perché la parrucca viene associata all'Ancien Regime e i rivoluzionari non ne vogliono sentir parlare, ma lo subisce anche in Inghilterra, dove addirittura nel 1795 viene emanata una legge che costringe chi porta la parrucca a pagare una tassa, e quindi, a tutti gli effetti, la fa molto rapidamente sparire, diffondendo l'uso di capelli più corti, che ovviamente anche dal punto di vista dell'igiene sono decisamente migliori, sono più facili da lavare. In Inghilterra porteranno ancora la parrucca solo alcuni tipi di lavoratori, come ad esempio i giudici, che curiosamente in Inghilterra ancora oggi portano la parrucca, è uno dei simboli, e saranno gli ultimi a poter utilizzare questo strumento, che era stato utilizzato per tutto il Settecento, che invece cadrà in disuso proprio all'inizio dell'Ottocento. Per coprire i capelli, ovviamente ci sono i cappelli, scusate il gioco di parole, nell'inizio dell'Ottocento vengono progressivamente abbandonati i tricorni e i bicorni che abbiamo visto utilizzare per tutto il Settecento, e compaiono invece dei cappelli più simili a quelli che vediamo ancora oggi utilizzare magari nei momenti di gala. Compaiono dei cappelli di forma conica, che poi progressivamente evolveranno in una specie di cilindro, e la loro forma anche in questo caso diventerà sempre più semplice, e lo vedremo poi evolvere quando racconteremo tra poco poi invece la moda dell'Ottocento. Ci rimane da parlare del trucco di questo periodo. Come vi dicevo, il trucco diventa molto più leggero, le famose mascherone che abbiamo raccontato, bianche, con strati e strati di queste creme a base di piombo, sostanzialmente scompaiono. In realtà non scompare l'idea di avere un incarnato chiaro, tanto che uno degli accessori più utilizzati in questo periodo, lo sarà per tutto l'Ottocento, era l'ombrellino che le donne portavano per evitare di ricevere direttamente i raggi del sole e mantenere così una carnagione chiara. Quando questo non era possibile venivano utilizzate varie polveri. Si utilizzavano ancora delle polveri a base di piombo che erano tossiche, ma iniziano ad essere introdotte anche delle polveri a base di zinco e di talco che quantomeno erano un po' meno tossiche. Ovviamente per non apparire come dei fantasmi, sia in questo periodo che quello immediatamente successivo, era poi necessario andare a colorare un po' le gote, le labbra e vengono introdotti nuovi tipi di coloranti tra cui peraltro in questo periodo anche il rosso cocciniglia, cioè quello ottenuto dalle coccinelle. Ci sono poi due altri aspetti importanti. Innanzitutto alcuni particolari come dire accessori. Uno dei must have per dirla come si direbbe oggi all'inglese, una di quelle cose che tutti dovevano avere era il neo. I nei erano considerati ma in parte lo sono ancora oggi soprattutto in alcune posizioni un simbolo di bellezza e per questo si creavano dei nei posticci finti che talvolta avevano anche forme elaborate come forme di cuore talvolta erano più semplici semplicemente tondi ed erano pensate talvolta utilizzati utilizzando delle pelli e si dice che la pelle più utilizzata per fare questi nei perché era quella maggiormente a disposizione fosse la pelle di topo. Un altro particolare erano le sopracciglia che dovevano essere precise talvolta venivano disegnate aggiustate con delle pinzette talvolta invece venivano proprio rasate e poi dipinte o utilizzando del carboncino o anche in questo caso qualcuno dice utilizzando della pelle di topo ma su questo la stessa Antonella mi dice di andarci un po' coi piedi di piombo perché sembrano più leggende che altro. C'è poi un ultimo aspetto che è la depilazione perché ovviamente queste donne che si conciavano con questi vestiti leggeri che mettevano molto in mostra e che avevano questo incarnato chiaro non potevano poi rovinarlo con dei peli peli sulle braccia peli in faccia che fossero a bella vista e per questo tornò ad essere molto importante la depilazione depilazione che talvolta veniva fatta con delle cere a caldo varie sostanze zucchero miele che venivano scaldate ad altissime temperature e con cui si faceva la ceretta immaginatevi il dolore ma all'inizio dell'ottocento iniziano a comparire i primi rasoi di sicurezza che non hanno ancora la forma attuale del rasoio quella specie di forma ombrello per intenderci o a t scegliete voi ma che avevano ancora la forma del classico rasoio che però erano di sicurezza ovviamente introdotti prima per gli uomini ben presto iniziarono a essere utilizzati anche dalle donne anche se per un loro utilizzo vero e proprio dobbiamo spostarci in una cinquantina d'anni più avanti nel corso dell'ottocento prima che inizino a diffondersi veramente questo periodo questo periodo di cambiamento come potete immaginare ad un certo punto cambia inizia a cambiare soprattutto sul continente innanzitutto per motivazioni politiche con la sconfitta di Napoleone con la battaglia di Waterloo la ridistribuzione del potere in Europa e dopo il congresso di Vienna molti cercarono di riportare indietro le lancette della storia anche dal punto di vista della moda tanto che dopo il congresso di Vienna alcuni tornarono a presentarsi con i vestiti le parrucche i mascheroni che erano stati portati nel corso del Settecento e talvolta anche raccogliendo il divertimento di tanti perché riportare indietro la moda era veramente qualcosa di incredibile peraltro riportarla indietro di quarant'anni buoni è un po' come se oggi improvvisamente la gente iniziasse tutta a vestirsi come nella febbra del sabato sera capite che in qualche modo attirerebbe qualche occhiaia qualche occhiata e qualche risata tanto che questo revival del passato progressivamente andò a scomparire negli anni 30 dell'ottocento però la moda continuò a mutare e tornò a subire un cambiamento quando si entrò nella cosiddetta età vittoriana ora l'età vittoriana è ovviamente un periodo che si indica prevalentemente per l'Inghilterra perché è il periodo di governo della regina vittoria che salì al potere negli anni 30 dell'ottocento e che governerà fino ai primissimi anni letteralmente i primissimi anni del novecento questa età vittoriana però che ovviamente vide l'Inghilterra al centro del mondo dal punto di vista politico militare economico ma anche delle mode ha però delle caratteristiche che nella moda nel trucco nei vestiti si diffusero per tutta Europa e poi nel resto del mondo e quindi volendo possiamo parlare di questo periodo come di un periodo unico per tutto il mondo occidentale perché non dimentichiamoci che prima di arrivare a parlare di mode anche per il resto del mondo ci vorrà ancora parecchio tempo si dicono un sacco di cose sull'epoca vittoriana si dice che fosse puritana si dice che le donne fossero costrette in casa e a non mostrare neanche un angolo del proprio corpo ci sono le battute che dicono mio dio quella donna è mezza nuda le vedo un angolo di caviglia in realtà le cose non stavano esattamente così è vero che è un'epoca abbastanza chiusa abbastanza puritana non si parlava di sesso in pubblico ma di questo diciamo che non lo si è fatto in realtà fino a tempi molto molto recenti parleremo tra poco di moda però l'immagine che abbiamo dell'ottocento e anche dal punto di vista della moda all'interno delle case è quella di oggetti molto scuri tendaggi pesanti insomma un ambiente opprimente che sembra cancellare tutta la gioia i colori e la gaiezza invece dei secoli precedenti in realtà come vedremo le cose non sono esattamente così ma partite dal presupposto che alcune cose sono legate a cambiamenti dal punto di vista storico ad esempio il fatto che molto spesso nelle case soprattutto nelle grandi città cominciare da Londra i pesanti tendaggi che in effetti c'erano c'erano servivano non più tanto per frenare il freddo quanto per impedire alla fuligine che progressivamente stava diffondendosi nelle città che crescevano utilizzavano il carbone per scaldarsi insomma immettevano nell'atmosfera grandi quantità di fuligine impedivano alla fuligine di entrare gli oggetti scuri avevano lo stesso vantaggio e l'utilizzo di colori meno vivaci fu semplicemente una questione di moda anche se come vedremo l'introduzione di alcuni colori come ad esempio il verde scateneranno dei veri e propri delle comparse di colori che oggi in realtà utilizziamo molto molto meno dell'epoca è vero però che nei vestiti femminili come vi dicevo si ebbe un piccolo ritorno al passato i vestiti iniziarono a essere molto più spessi molto più complessi molto più pesanti da portare si arrivò ad avere dei vestiti che addirittura pesavano 13-14 kg quindi insomma era un peso veramente considerevole divennero complessi anche a livello di gonne che non era più un'unica gonne che copriva con magari una camicia bianca portata sotto come biancheria ma che iniziavano ad avere molte sottogonne cioè diversi strati uno sotto l'altro le sottogonne della terra hanno già comparse nella prima parte dell'Ottocento ma in questo periodo iniziarono a moltiplicarsi con magari lo stesso vestito che poteva avere 5-6-7 sottogonne rendendo difficile anche il movimento uno dei simboli di questo periodo è la crinolina che vedete nelle immagini è questa specie di gabbia che si veniva a creare intorno alla vita e poi scendeva giù lungo le gambe che serviva per tenere sollevate queste gonne può sembrare un impedimento ma in realtà era un vantaggio perché tenendo sollevate tutti questi strati rendeva un po' più facile muoversi tutte queste gonne tutti questi strati questa larghezza peraltro pensate che a volte erano pericolose perché capitava che questi vestiti si impigliassero o che addirittura prendessero fuoco perché si passava vicino al fuoco del camino e questi tessuti prendevano in questo modo fuoco in questo periodo si diffonde sempre di più anche nelle classi medie la moda di avere però tanti vestiti diversi grazie a un ulteriore calo dei prezzi dei vestiti ovviamente dipendeva da quale potesse essere il materiale ma iniziano a diffondersi sempre più vestiti diversi vestiti cosiddetti vestiti da lavoro da tutti i giorni che variavano ovviamente a seconda della classe sociale ma tra le persone più ricche iniziano a comparire ad esempio i vestiti da sera che inizialmente erano dei vestiti che si indossavano quando si andava semplicemente a cena non vestiti eleganti attenzione o meglio più eleganti rispetto ai vestiti da lavoro ma comunque meno rispetto ai vestiti da cerimonia diciamo così ma comunque dei vestiti più eleganti che nelle famiglie nobili era ad esempio prassi indossare proprio quando si andava a cena che era considerato un momento della giornata in cui bisognava vestirsi più elegante se qualcuno di voi ha mai visto downtown Abbey credo che sappia benissimo di cosa stia parlando queste strutture però negli anni 60 dell'ottocento e poi 70 e così via progressivamente andarono a ridursi negli anni 70 80 progressivamente la crinolina andò se non proprio a scomparire quantomeno a ridursi di dimensioni si iniziò ad utilizzarla solo più per i vestiti formali che iniziarono anche a scoprirsi perché se i vestiti da lavoro rimaneva assolutamente importante coprire ogni parte del corpo spesso anche il collo nei vestiti invece quelli più che quelli da sera diciamo proprio quelli da cerimonia le donne iniziarono a scoprire nuovamente il petto a scoprire le spalle abbiamo quindi quasi una separazione tra la nobiltà che è più ricca che ha accesso anche a vestiti che mostrano di più rispetto invece alla povera gente ma progressivamente i vestiti si fanno sempre più semplici questo anche perché le donne escono dalle case iniziano a fare attività fisica ovviamente stiamo parlando sempre di donne più ricche le donne del popolo invece molto spesso già lavoravano prima e per questo hanno bisogno di vestiti più comodi i vestiti quindi tornano ad accorciare a rendersi più piccoli il numero di sottogonne si riduce e il tutto torna a essere molto più pratico prima di arrivare ai pantaloni ci vorrà ancora parecchio ma insomma la praticità torna a essere in qualche modo importante in questo periodo viene riscoperto anche il corsetto che torna a stringere molto molto le vite le vite chiedo scusa un po' come alla fine a metà del 1700 ma che poi anche in questo caso viene poi allentato per uno stile più naturale alla fine del secolo gli accessori subiscono invece come dire un percorso opposto perché sia i cappelli che le scarpe che nella prima parte dell'ottocento erano tendenzialmente piccole anzi nella prima parte dell'età vittoriana addirittura le donne continuavano a portare le cuffie come si era portato durante l'epoca precedente quella regency o impero scegliete voi le scarpe invece all'inizio erano molto molto basse con dei tacchi bassi bene man mano che i vestiti iniziano a rimpicciolirsi le donne iniziano a utilizzare altri oggetti per farsi risaltare ad esempio con dei cappelli che diventano sempre più grandi soprattutto alla fine del secolo e con i tacchi che invece progressivamente si alzano iniziando ad avere un aspetto che è sempre più simile invece ai vestiti eleganti attuali anche la moda degli uomini in realtà cambia anche se in maniera meno evidente diciamo che vincono vince la moda dei dendi inglesi che sostanzialmente accompagnerà come stile come modo di vestire quasi tutto questo secolo ci sono ovviamente dei cambiamenti nella foggia delle camice nei polsini nei colletti ma sono cambiamenti molto specialistici non sto io a spiegarveli molto interessante invece l'evoluzione dei cappelli perché da quei cappelli conici di cui abbiamo parlato si arriva proprio ad avere le prime tube che addirittura a metà del secolo diventeranno molto alte le cosiddette tube a stufa che sono classicamente associate all'immagine di abramo lincoln che portava in molte foto questo cappello in realtà a questo punto questo tipo di cappelli si separa praticamente in due famiglie perché se i più ricchi utilizzano appunto le tube i più poveri o meglio la classe media più che i più poveri i più poveri usavano normalmente dei berretti la classe media utilizza invece una bombetta che ha un'evoluzione simile parallela ma che appunto porta a due cappelli diversi nel punto di vista del trucco non ci sono grossissimi cambiamenti rispetto al passato la chimica si fa sentire sempre di più anche se in questa fase in realtà si concentra soprattutto sulle colorazioni sui prodotti per i vestiti ed è qui che escono le stranezze più particolari in particolare nel corso dell'ottocento viene introdotto un nuovo tipo di colore un verde smeraldo che fin dall'inizio colpirà tantissimo le donne che però era ottenuto dall'arsenico ovviamente era tossico se ne accorsero già molti medici dell'epoca che sconsigliavano l'utilizzo dell'arsenico giravano battute su alcune donne che erano entrate in una sala con i vestiti i capelli pieni di questo colorante e avevano fatto una strage sono ovviamente battute ma fanno capire che l'idea che fosse pericoloso ce l'avevano già all'epoca che però continuò ad essere utilizzato tranquillamente anche in questo caso provocando grossi problemi soprattutto a livello della cute ad esempio si coloravano i guanti che però se venivano portati troppo a lungo portavano la comparsa di ulcere sulla pelle quindi immaginatevi ancora una volta lo diciamo se uno vuole essere bello all'epoca doveva veramente soffrire parecchio anche gli uomini ovviamente usavano questo colorante non per i capelli per alcuni vestiti anche perché anche se i vestiti rimangono molto classici soprattutto sui particolari magari si gioca sui colori si usano dei colori che magari provengono delle fantasie che provengono dall'Oriente e ovviamente anche in questo caso vengono utilizzati questo tipo di colori c'è una particolarità sugli uomini e sono i cappelli perché per fare i cappelli si utilizzavano ovviamente delle pelli che fin dall'antichità venivano trattate utilizzando l'urina ricordate la tassa di Vespasiano sui Vespasiani che in realtà serviva semplicemente perché l'urina veniva poi utilizzata dai conciatori di pelli bene quella in questo periodo qualcuno inizia a notare che l'urina di coloro che sono malati di sifilide curiosamente funziona meglio nel conciare le pelli e ci si rende presto conto che la motivazione non è la presenza del sifiloma ma il fatto che venissero trattati con il mercurio che non cura la sifilide ma all'epoca veniva utilizzato per provare a farlo quando se ne resero conto iniziarono ad utilizzare il mercurio per trattare le pelli peccato che il mercurio è neurotossico cioè da problemi a livello cerebrale e quindi iniziarono ad esserci dei conciatori di pelli che avevano di questi disturbi e classicamente si diceva che chi lavorava nei cappelli i cappellai tendessero ad impazzire da cui secondo alcuni la figura del cappellaio matto che è presente in Alice nel Paese delle Meraviglie non abbiamo detto un'ultima cosa importante cioè chi fosse l'influencer di questo periodo l'abbiamo detto all'inizio dell'Ottocento ne avevamo addirittura due beh nel corso della seconda parte dell'Ottocento il vero diciamo che di influencer ce ne potrebbero essere volendo due ed era sempre più importante perché come vi dicevo con il continuo abbassamento del costo dei vestiti la moda divenne qualcosa di sempre più importante e ormai veramente andava da una parte all'alto dell'Atlantico bene la prima era la Regina Vittoria che dà il nome a tutta un'epoca in realtà dal punto di vista della Regina Vittoria non c'è tantissimo da dire sulla moda anche perché quando morì il marito iniziò a vestirsi di lutto quindi un nero continuo e la cosa che inizialmente non venne particolarmente accettata in realtà poi lanciò una vera e propria moda nel mostrare il lutto che prevedeva una rigida divisione a seconda di quanto fosse vicino il parente morto ci si metteva a lutto per un mese due mesi tre mesi qualcuno lo faceva per anni qualcuno lo faceva come la Regina Vittoria per tutta la vita la vera e propria invece influencer tra i nobili era la famosa principessa Sissi o meglio l'imperatrice Sissi di Austria-Ungheria la sposa di Francesco Giuseppe Sissi diede un grosso slancio alla moda alla fine dell'Ottocento innanzitutto con la sua mania per la cura del corpo la volontà di fare diete di stringere la vita la sua volontà di impegnarsi nello sport per mantenere un corpo attivo e bello da quel punto di vista ma soprattutto per i capelli che Sissi portava lunghissimi addirittura fino alle caviglie e che fecero vennero copiati letteralmente in tutta Europa con le donne che cercavano di avere capelli sempre più lunghi il problema e qui torniamo di nuovo così chiudiamo nuovamente con l'igiene è che se i capelli portati più corti di inizio ottocento erano ottimi per l'igiene questi capelli così lunghi assolutamente non lo erano perché se si era la principessa Sissi che li si poteva far lavare dalla servitù far asciugare attentamente capello dopo capello si potevano anche utilizzare ma anche lei ci metteva veramente tantissimo tempo e quindi li poteva lavare solo in alcuni momenti ma se si faceva parte del popolo e quel tempo non c'era lavare i capelli diventava complicato farli asciugare e l'unico modo per farlo era ovviamente al sole e quindi poteva capitare di non lavarli per tutto l'inverno soprattutto nei paesi più freddi insomma la moda in qualche modo almeno nei capelli aveva riportato indietro l'igiene in questo periodo di indigene e poi chiudiamo ovviamente ci furono tante scoperte come ad esempio il lavaggio delle mani di Samuel Weiss ne abbiamo parlato in una pidola apposita ma insomma prima di arrivare a un'igiene diffusa ancora ci vorrà un bel pezzo del novecento ne parleremo quando Antonella avrà voglia tempo e finirà il lavoro di completare questo viaggio attraverso la moda e l'igiene nei secoli e qui ci fermiamo credo che sia stato un viaggio interessante il materiale che mi aveva mandato Antonella era dieci volte quello che vi ho raccontato ma credo che saremmo andati troppo nello specifico e credo ci siano anche canali più adatti per farlo più specifici in questo ma se volete chiedere a lei veramente ha fatto una raccolta fantastica credo che tutto questo materiale che ha raccolto per queste puntate andrebbe pubblicato perché è un lavoro veramente strepitoso e peraltro molto molto comprensibile quindi ringrazio lei e come sempre ringrazio abbonati Patreon chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti riesce a produrre nuovo materiale molto più di quello che faceva prima ovviamente a disposizione di tutti oggi in particolare vorrei ringraziare Cesare Pastore grazie mille tantissimo per il tuo aiuto e per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere le loro opere e se volete curiosare tra qualcuno di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao